Questo anno è la prima volta in questa scuola e questa scuola è speciale come le altre scuole in Como, è speciale per gli stranieri come noi. Grazie mille, grazie del cuore, grazie, grazie. Sono Zahar, sono egiziana e ho scritto questo con la mia maestra Gilda e questo per amo, amo semplicità, amo la lettura, amo il calcio, amo i calori familiari, amo il mio paese, l'Egitto amo l'odore della pioggia, amo il mio preghiera, amo la leggera, amo leggere il Corano, amo il monologo di Dio, amo la musica classica, amo i miei amici, amo la mia infanzia, amo la faccia sorridente, amo la calma, amo la... Reunioni della mia famiglia per l'occasione, amo il tempo di Ramadan, amo il mango, amo il formaggio burgo, amo il Dio, grazie mille.